Non mola la presa il Comitato Sava che in questi mesi ha avuto il merito di sensibilizzare la pubblica opinione retina sul macro tema della stazione dell'alta velocità. Raccolta firme, petizioni online, convegni e pressioni sulle forze politiche non sono valse a nulla visto che il tavolo tecnico ministeriale ha scelto l'opzione Creti per la futura stazione dell'alta velocità. Per il Comitato Sava Rigutino era e resta l'unica soluzione possibile e tutto ciò è stato ribadito in una lettera scritta direttamente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui è stato chiesto di esercitare la sua funzione di controllo. Il Comitato si riallaccia all'intesa tra Toscana e D'Umbria per trovare una soluzione comune. Ci saremmo aspettati un impegno diverso di tanti politici locali che invece con il loro silenzio hanno favorito scelte diverse. Lo ripetiamo, la soluzione Rigutino-Frassinetto, sottolineano nella missiva, è la migliore sotto tutti i profili. Creti resta solo una soluzione folcloristica e lontana da infrastrutture degne di nota. Sulla questione ha detto la sua anche il vice segretario del PD Aretino Filippo Gallo, sarcastico nei confronti della giunta dei grandi annunci. Forse, dice Gallo, avrebbero dovuto assicurare una fermata al Frecciarossa di Lollobrigida.